Scuola chiusa per emergenza a pochi giorni dalla suono della prima campanella. È successo a Bibiena dove sono stati riscontrati due casi positivi alla coronavirus tra il personale dell'Istituto Dovizzi che comprende dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di primo grado. Si tratta di personale scolastico ma non docente impegnato in questi giorni nella riorganizzazione all'interno dell'Istituto. Gli screening erano stati fatti, ovviamente dipendenti, hanno risultati negativi ma poi con il rientro al lavoro ormai da alcuni giorni, alcune settimane, sono manifestati dei sintomi, sono state sottoposte a tampone e è stata riscontrata la positività. Mi viene da dire per fortuna adesso, però piuttosto che a scuola iniziata vediamo il bicchiere mezzo pieno, però è chiaro che siamo in una situazione emergenziale ed è chiaro che queste cose possono succedere. In questo momento la risposta quale può essere? Può essere chiaramente quella di avere un quadro conoscitivo, concreto, reale di quelli che sono stati i contatti con queste persone positive per poi andare a fare la scelta più giusta in questo momento per la cittadinanza. Comune, Asla, Scuola e Carabinieri si sono subito attivati per ricostruire la cerchia dei contatti stretti che sono stati sottoposti a tampone ed è stata attivata la misura dell'isolamento domiciliare volontario. Sono circa 15 di queste persone positive e tra domani e venerdì avremo la risposta di questi tamponi e in quel momento insieme alla dirigente scolastica e insieme all'As saremo in grado di prendere la decisione più corretta ripeto è più giusta. Tra le possibili ovviamente scelte, strade da intraprendere c'è quella anche del rinvio dell'apertura dopo le elezioni. Questo perché è evidente che se le quarantene emesse saranno, riguarderanno l'intero personale scolastico è evidente che sarà difficile ipotizzare una ripresa della scuola in sicurezza in mancanza di personale.